Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca ancora una rapina d'opera di una baby gang nel centro storico Aretino. Lo scorso sabato un gruppetto di ragazzi si sarebbe avvicinato ad alcuni adolescenti in corso Italia e qui sarebbero iniziate le violenti minacce che poi avrebbero portato alla rapina. Alle giovani vittime, tutti d'età compresa tra i 14 e i 15 anni, sarebbero state portate via un paio di scarpe e una felpa ed una giaccone. Sull'episodio sta indagando la polizia di Stato. Sono stati invece assolti i quattro ragazzi che erano stati arrestati tre anni fa a seguito di una maxirizza in piazza San Francesco. Sono stati tutti assolti i quattro giovani arrestati tre anni fa a seguito di una maxirizza nel centro di Arezzo. Era la notte del 25 gennaio 2021, in piazza San Francesco, quasi 15, le persone coinvolte nel parapiglia, tra calci, pugni e anche colpi con una stampella. Con l'arrivo delle forze dell'ordine, quattro giovani provenienti dalla Valtiberina e arrivati in città per festeggiare un compleanno, furono arrestati con l'accusa di rissa aggravata e denunciati per la violazione delle norme anti-Covid, oltre ad essere proposti per l'emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Arezzo per tre anni. Una violentissima lite, per futili motivi, costata due giorni di carcera ai quattro giovani difesi dall'avvocato Tiberio Baroni. Adesso il processo si è concluso. Lo stesso PM, Elisabetta Sbragi, ha chiesto l'assoluzione dei quattro imputati. Dopo un'attenta analisi della documentazione prodotta dalla difesa, il PM non avrebbe rilevato elementi sufficienti per una condanna. Ancora cronaca, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Tregozzano per l'apertura di una voragine proprio sotto il tracciato di una strada vicinale ad uso pubblico, non lontana dall'abitato della frazione. Una gigantesca camera, larga 2 metri e profonda 10, forse scavata dall'acqua. È stata così messa in sicurezza la tubazione del gas metano rimasta scoperta, poi gli agenti della Municipale hanno provveduto a transennare la zona in attesa di un intervento risolutivo. E sempre i Vigili del Fuoco questa mattina sono intervenuti anche a Castiglion Fiorentino, in località La Foce, per l'incendio di un'auto. Gli operatori sono stati allertati da alcuni passanti e hanno domato le fiamme a loro arrivo e l'aria è stata messa in sicurezza. Una blackout invece per alcune abitazioni nella zona di Montefalco, questa mattina ad Arezzo. Si è infatti sviluppato un principio di incendio di una cabina elettrica che ha determinato temporanei disagi. C'è stato il surriscaldamento di alcune apparecchiature in cabina e sul posto sono intervenuti i tecnici del gestore, oltre ai Vigili del Fuoco. Voltiamo pagina per parlare di aggressioni al personale sanitario. Sentiamo il direttore del pronto soccorso, Aretino. È molto sentito e per certi versi non si sta attenuando il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario. Ne abbiamo parlato con Maurizio Zanobetti, direttore del pronto soccorso di Arezzo. L'umore non è buono perché questo è un personale sanitario, medico, infermeristico, osse che sono già abbastanza colpiti dagli afflussi che devono gestire al pronto soccorso e quindi se poi sono anche vittimi di aggressioni, i più delle volte direi qui ad Arezzo verbali ma che se non riusciamo a gestirle in un certo modo e siamo bravi potrebbero spociare anche il non verbale e quindi la situazione è una situazione complessa. Devo dire che chi fa le aggressioni normalmente è quello che non ha quasi niente e quindi questo è il paradosso del pronto soccorso. Chi è malato sul serio non aggredisce nessuno, chi invece utilizza il pronto soccorso in modo improprio è quello che poi dopo vorrebbe di più. e va oltre sia con parole e poi anche con altre cose. Però diciamo il nostro personale è abbastanza preparato, ha fatto anche dei corsi di psicologia in modo tale di cercare di fare in modo tale che comunque tanto l'aggressione verbale va solo spenta perché se poi dopo degenera non porta nessuno da nessuna parte dall'altra. Durante questo ultimo periodo di stress ci sono stati questi casi? Direi che i casi ci sono cronicamente, perennemente. Sì, c'è più indolenza su pazienti che poi alla fine si rendano conto che sono venuti in modo improprio, prendano e magari tornano anche a casa. Qualche d'uno invece insiste con delle pretese che chiaramente non sono applicabili, però direi che la media delle aggressioni verbali è abbastanza stabile, ahimè purtroppo, non è periodica in tutti i pronto soccorsi, non solo a Arezzo ma della Toscana e d'Italia. Ancora a Sanità, a breve saranno pubblicati bandi per reperire medici da impiegare nelle parti di medicina, dell'emergenza urgenza, ostetricia, igienecologia, pediatria, ortopedia e psichiatria delle strutture sanitarie dell'Asola Toscana Sud-Est. La manifestazione di interesse sarà rivolta ai medici scritti al penultimo e all'ultimo anno delle scuole di specializzazione. Il conferimento degli incarichi di lavoro autonoma ai professionisti sarà effettuato dopo una valutazione dei curricula inviati da parte dei direttori dei dipartimenti interessati e avrà una durata massima di sei mesi. E adesso ci spostiamo alla Colle della Pionta. La Giunta a Ritina infatti ha approvato il piano generale di utilizzo relativo all'aria. Noi abbiamo con questo piano urbanistico complessivo di fatto disegnato le aree e dato il titolo ai luoghi, poi nel tempo si costruiranno gli oggetti che andranno a vivere in quegli spazi, che abiteranno quegli spazi, ma quello che è chiaro è che la Giunta Ghinelli ha definitivamente dato un volto al futuro del Pionta. Approvato dalla Giunta il piano generale di utilizzo relativo all'aria del Colle del Pionta. È ovvio che gli interventi urbanistici precedono e seguono gli interventi strutturali, quindi è evidente che lì si faranno degli interventi concreti, cioè di azioni, di immobili. La riqualificazione edilizia ed urbanistica del Colle era stato oggetto anche del processo partecipativo o rigeneramenti riabitare il parco del Pionta, che ha consentito di individuare le tematiche legate all'attuale utilizzo dell'aria e di evidenziare le esigenze per il futuro della zona. Unisce gli interventi che la ASL sta facendo importantissimi con il PNRR, Missione 6, Sanità, ma li unisce con una serie di interventi di tipo ambientale, sociale, culturale, legato alle attività dei giovani, alle attività sportive, dando finalmente, riconsegnando finalmente al Pionta una identità territoriale di grande ricucitura verso una idea che è quella di un luogo che è il simbolo di Arezzo e che oggi trova una sua declinazione per il futuro. Priorità del progetto è rendere più accessibile l'area del Colle. Il parco deve essere attraversato, io devo partire da un ingresso e arrivare all'altro ingresso. In realtà il Pionta non viene vissuto così. Quindi noi abbiamo, come prima idea progettuale, previsto tre nuovi ingressi pedonali, cioè lasciare la macchina e quindi prevedere anche dei parcheggi e poi iniziare questa camminata che collegherà l'area sia del Baldaccio, l'area Andomani del Terzo Luogo, quindi l'ex Scalomerci delle Ferrovie, a tutto il Colle del Pionta che poi è collegato, come sappiamo, con la zona sud della città. Giovedì 25 gennaio invece torna il Consiglio Comunale a partire dalle 9. Per quanto riguarda il programma dei lavori, dopo le interrogazioni proseguiranno le votazioni sulla pratica urbanistica già avviata nell'ultima seduta dello scorso anno. E ancora una variante al piano strutturale, l'estensione anticipata dei contratti di leasing per i parcheggi mecenate e San Donato e l'aggiornamento del regolamento comunale per i servizi educativi 0-6 anni. E proprio per quanto riguarda i servizi educativi ci saranno delle importanti novità che saranno discusse dal Consiglio Comunale. Vediamo il servizio. I nonni faranno la differenza. È uno dei criteri che potrebbero entrare a far parte del regolamento per stilare la graduatoria di ingresso dei bambini negli asili del Comune di Arezzo. Se ne parlerà giovedì prossimo in Consiglio Comunale. Il regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia è in fase di revisione. La proposta, costruita dall'assessorato guidato da Lucia Tanti, è già passata in commissione nei giorni scorsi. Sotto la lente i criteri finora in vigore per l'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia comunali e quindi per costruire poi la graduatoria dei bambini e delle famiglie che ne faranno richiesta. Una lista che potrebbe essere incrementata con voci del tutto nuove tra queste, quella che balza più agli occhi, è appunto quella dei nonni. Ovvero, se avere un nonno o più a disposizione farà appunto la differenza e soprattutto in che modo, di fatto in base all'età, la loro condizione lavorativa e altri criteri, verrebbero appunto considerati come aiuto alle famiglie. Salirebbero poi da due a quattro anche le categorie sul tipo di lavoro dei genitori. Se il primo discrimine era il monteore, adesso diventerebbero invece sette punti per il lavoro dipendente full-time e sei per il lavoro dipendente part-time. Insomma, un regolamento che potrebbe introdurre tante novità, alcune di esse magari non troppo gradite dalle famiglie. Questa mattina è stato inaugurato il restauro del portale meridionale della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il più antico simbolo del Duomo di Arezzo. Questo portale che oggi viene riconsegnato e reso bello, recuperato, è patrimonio di una comunità ed è una delle ricchezze di arte della nostra Chiesa, molto significativa perché è uno dei luoghi più antichi della Cattedrale. Si è concluso il restauro del portale meridionale della Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, il più antico e simbolico del Duomo di Arezzo. Fu infatti voluto dal vescovo Guido Tarlati e la sua realizzazione iniziò nel 1325. Era improcrastinabile perché il portale di mezzogiorno, così chiamato, proprio perché vi batte il sole quotidianamente e quindi sia la prea terrenaria, il gruppo scultorio, l'affresco, ma anche il portone ligno, erano in condizioni che necessitavano proprio di un intervento di manutenzione e restauro. Si è potuto confermare innanzitutto la tipologia anche di tecnica utilizzata soprattutto per il gruppo scultorio, che è una matta di coccio-pesto, quindi anche una tecnica molto particolare, soprattutto nel Medioevo e di queste dimensioni probabilmente troviamo soltanto il nostro esemplare di Arezzo. Parte del restauro è stato reso possibile grazie ad Ancos, a contribuire invece al recupero del portone Graziella Braccialini. Ancos ha ci ha dato l'opportunità con la nostra collaborazione, il 5x1000 raccolto da tutti i nostri associati e pensionati, di poter rendere ancora più bella e visibile la porta d'ingresso di tutti gli aretini che è la nostra cattedrale. Nell'ottica comunque sia di una rivalorizzazione di quelle che sono poi le opere, il bello della nostra città. Il lavoro autorizzato e seguito sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paisaggio è stato eseguito da restauratori qualificati. La conservazione con la manutenzione, la manutenzione se è possibile eseguirla ciclicamente ogni 3-4 anni, basterebbe andare lì e dare un protettivo a modo che possa andare avanti tranquillamente. È una parte importante che non viene mai presa a considerazione. Andiamo adesso a conoscere meglio per Atunza al secolo Alessandro Perugini, che ha fatto dell'ironia e della battuta sempre pronta, una vera professione. Tutti pazzi per Peratunz al secolo Alessandro Perugini, che ha fatto dell'ironia e della battuta sempre pronta, una vera professione. Due denti che fanno un incidente, oppure la sigaretta, nonno che porta a spasso la sua nicotina, tutti giochi di parole, e vedo che, wow, vanno alla grande su Instagram. Aretino Doc si definisce fumettista, content creator, instagrammer, youtuber. Di fatto, le sue battute, le sue freddure, barzellette, enigmi, fanno impazzire il web e le librerie. Con le freddure, freddure animate, lì ho fatto un'esplosione pazzesca, soprattutto con un libro che è Ridi che è meglio. Quel libro era magico, chiunque lo vedesse lo doveva prendere per vedere cosa ci fosse dentro. E siamo iniziati con 3.000 copie e ogni settimana esauriva. E tutte le volte eravamo lì a ristampare, ristampare, ristampare. Prima le freddure, poi i fumetti. Oggi è seguito da milioni di persone. I suoi fan, più scadenati, non hanno più di 14 anni. I suoi libri sfiorano il milione di copie. Apro una pagina di fumetti su Instagram per vedere se può andare bene. A quel momento lì disegnavo sui fazzoletti, sui post-it. Fino a che scopro un format, che è ancora meglio delle freddure, per quel momento lì che è un format investigativo, dove tu devi indovinare chi ha ucciso due persone. Ah, no, chi ha ucciso Kenny, che è una unica persona. Il nome Kenny deriva da South Park, così mi facevo uccidere sempre lo stesso personaggio. Quindi in quel momento già avevo preso contatti con una casa editrice che aveva già visto il mio potenziale fin da subito. Una casa editrice molto buona, che è Tunue. E quindi già stavo elaborando il libro. E ho fatto infatti i primi due libri con chi ha ucciso Kenny, con loro, che sono andati bene per quanto sono le vendite in generale. Un'altra sliding door è arrivata quando sono passato da fumetti a fumetti animati, dove c'è anche la mia voce. Sempre per colpa di un social, TikTok, perché volevo salire anche lì, però lì accettava solo i video, quindi ho dovuto fare un video-fumetto. Oggi Alessandro lavora da casa. I suoi personaggi nascono proprio qui. È lui a dargli voce e anima. Il suo studio di registrazione, l'armadio della camera da letto. Pera, perché i topi mordono i tori? Ti prego, non lo dire. Perché sono roditori. Allora, quello è uno dei grandi segreti, è anche una battuta che faccio sempre quando me lo chiedono. Cioè, doppio davanti alle mutande ai calzini. Mi danno tanta ispirazione. E sembra una cavolata, però tanti doppiatori dicono lo faccio anche io e quindi io non mi faccio problemi, vado lì. Il problema è che devo avere due computer, uno è dentro i calzini praticamente. La mia missione sostiene, rivolgendosi alla sua community di circa 5 milioni di persone, è quello di strappare quotidianamente un sorriso ad ognuno di voi. Faccio le videodediche qui, personalizzate agli amici, degli amici, non sapete quante me le chiedono al giorno, quindi tutti i giorni sono qui a dire ciao Alessandro, ciao Lorenzo, ciao Diego, ciao Emma. Tanto che a un certo punto dico quasi quasi mi registro ogni singolo, ogni nome. Però non funziona, insomma, non funziona. Non lo faccio, non vi preoccupate. Senti, allora faccene una per Arezzo TV, vai. Ciao Arezzo TV, grazie mille per avermi intervistato. Siete i numeri uno, alò. Riparte nella 2024 con una delle orchestre più apprezzate dei pubblici di tutto il mondo, la stagione concertistica Aretina, il cartellone di appuntamenti promosso da Fondazione Guido d'Arezzo, Comune di Arezzo, con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon e il sostegno del Ministero della Cultura. L'appuntamento è per sabato prossimo alle 19, presso l'auditorium Guido d'Arezzo, Caorum Hall, con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con la direzione del maestro Ion Marin. E sono tornati anche gli appuntamenti con Jazz on the Corner. È un lavoro che facciamo tra i linguaggi, c'è del jazz, c'è della musica classica, c'è la tradizione acustica, folk, quindi si chiama Camera Ensemble, perché mette insieme le diverse anime della musica. Giovanni Palumbo con il suo Camera Ensemble, protagonisti dell'ultimo appuntamento di Jazz on the Corner. Il quartetto Camera Ensemble, come suggerisce il nome, presenta una formazione cameristica ed acustica. Gabriele Coyne al sax al clarinetto, Benny Pennazzi al violoncello, Giovanni Palumbo alla chitarra e Francesco Savoretti alle percussioni creano un suono unico che combina elementi di jazz italiano con melodie radicate nelle proprie tradizioni. È un appuntamento, direi, fisso, ormai da tanti anni, cerchiamo di fare una proposta ogni volta sempre nuova, diversa, variegata, e questa è la nostra seconda sera, insomma siamo contenti della risposta del pubblico. Questa musica si può definire jazz mediterraneo o etno-jazz più genericamente. Siamo vicini alla World Music, una musica di contaminazione fra musica popolare e jazz, quindi tessitura e jazz, improvvisazione, ma anche molta melodia, una melodia molto spiccata, che è molto evidente, che in qualche modo c'è anche una rivendicazione, diciamo così, tra virgolette, della cantabilità italiana, nei temi melodici, però appunto poi la base armonica è di tipo jazz. Lutto nel mondo del calcio a retino e non solo, è morto all'ospedale di Siena all'età di 76 anni Mauro Pasqualini, calciatore che ha vestito tra le altre anche le maglie di Arezzo e Lucchese, in carriera aveva poi giocato nel Catania, Bologna, Cesene e Monza. Si è spento quasi in contemporanea con il grande Gigi Riva che aveva affrontato da avversario e che considerava modello da seguire. E adesso passiamo al calcio giocato. Il calciatore dell'Arezzo, Cristiano Sebastiani, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali conseguente ad uno scontro con un compagno in allenamento. L'intervento spiega una nota della società eseguito al centro chirurgico toscano è perfettamente riuscito. Nei prossimi giorni sarà resa nota la tempestività del recupero agonistico. Domenica 28 gennaio invece sarà una mattinata dedicata ai più piccoli al palazzetto del Nuoto di Arezzo con la nuova edizione del Baby Aquatics Day promosso dalla Chimera Nuoto un appuntamento rivolto alla fascia di età 04 con cui vivere un primo approccio all'ambiente acquatico e al mondo del nuoto. Questa perra stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.